Sì, è vero, sarà l'ennesimo Natale, purtroppo i calabresi, i lavoratori in mobilità interroga non avranno ancora quanto gli spetta rispetto a tutti questi anni. Sarà un Natale infelice, sarà l'ennesimo Natale infelice, chiediamo, lanciamo un appello al governo e regione soprattutto di intervenire, di non girarsi all'altra parte per ristabilire appunto diritti acquisiti. E quindi i calabresi sono anche stanchi di emosinare favori ai politici di turno ed è arrivato il momento di pretendere i propri diritti. Sono stanchi anche di emosinare azioni di politica attiva che sono fine a se stesse. La Calabria ha bisogno veramente di rinascere, però bisogna rinascere ristabilendo legalità e offrendo diritti che sono stati acquisiti in rispetto anche all'articolo 3 della Costituzione.